Caruso, sentiamo oggi a Franco Coppola. Tira sempre, il matrimonio festa tra cuore e conti, tutto sposi 2010 tra sfilate e proposte dalle limusine ai ricevimenti. Alla mostra d'oltremare di Napoli, l'antico nel segno del rinnovamento. E occhio alle testimonial, Elena Santarelli ha sfilato per BG Ungaro, che pensa a spose per un giorno indimenticabile, mentre la modella, tornata in passerella, aspetta che Corradi le chieda la mano. Si sogna con l'abito bianco e si attende, insomma, la, come si dice, la dichiarazione di Bernardo. Ogni sposa avrà il suo effetto quel giorno, secondo la persona, secondo il fisico di una ragazza, la modelliamo e facciamo in modo che sia femminile per quel giorno e sia veramente la grazia di Dio. Il matrimonio è anche clic su clic, scatti su scatti, pose su pose, come racconta l'obiettivo storico Oreste Pipolo. Ieri tu non potevi fotografare la sposa prima di quella giornata, oggi no, oggi si fanno dei servizi fotografici molto più grandi dell'album di matrimonio stesso. Tutto Sposi 2010 ha anche voluto mettere in sordina la mondanità per privilegiare i forum sulla famiglia, come dice la promoter Martina Ferrara. Per dare l'opportunità a tutte le giovani coppie di arrivare più consapevoli al matrimonio e dare la possibilità di porre domande e ricevere adeguate risposte agli esperti in matere.